Un anno, alle mie spalle vedete le croci, leggi vedete le prime, dopo di essa, cambero, costituzione, scuola, parlamento, amici, sottosso, parola, giornalista, informazione, mano a mano che i cittadini si accorgevano di quello che stava succedendo, cercavano di proteggere le parole minacciate, usando i loro corpi come scudo ma era tardi, si aggrapparono alla parola scuola ma era tardi e la scuola crollò, si aggrapparono alla parola tribunale ma crollò, l'espressione post-Italia era ormai borsa e con essa, cambero, libertà, socialismo, piazza, sindacato, pensione, intervista, dialogo. In breve rimasero soltanto la parola notizia, paccoma, i giorni della settimana e poche altre, poche per fare una conversazione, poche anche per formulare le richieste più elementari.